Si chiama Explorer, il primo veicolo a emissioni zero prodotto dal marchio Ford presso l'Electrification Center di Colonia. Si tratta di un SUV 100% elettrico che fa da apripista all'impegno preso dall'ovale blu. Vendere in Europa è entro il 2030 una gamma di vetture interamente elettrica. La linea aerodinamica trasferisce lo spirito e lo stile degli iconici SUV americani targati Ford in una nuova era con un design a scudo che sostituisce la tradizionale griglia anteriore. Di medie dimensioni e con un bagagliaio da 450 litri ospita fino a 5 persone e offre tutto l'equipaggiamento necessario per intraprendere un viaggio con la famiglia. Explorer inoltre offre una piena esperienza digitale consentendo a conducenti e passeggeri di restare sempre connessi durante i loro spostamenti. Per dimostrarne le potenzialità Ford ha stretto una collaborazione con l'influencer Lexi Alford conosciuta come Lexi Limitless, la persona più giovane nella storia ad aver visitato tutti i paesi del mondo che farà una spedizione intorno al globo guidando il nuovo SUV. Un viaggio ispirato a quello compiuto dall'esploratrice Aloha Wonderwell che 100 anni fa stabilì il record con un giro del mondo sulla Ford Model T. I clienti possono effettuare un test drive virtuale da computer o smartphone guidando in scenari differenti. Disponibile in due versioni, ognuna con dettagli specifici dedicati, Explorer ed Explorer Premium è prenotabile sul sito Ford Italia.